allora ragazzi oggi vi mostrerò questo frutto particolare molto particolare perché perché un po di tempo fa ho fatto un video dove mostravo uno dei miei tanti frullati energetici dove mettevo questo frutto particolare che ragazzi su instagram un po di persone mi hanno mandato qualche messaggio mi hanno detto giuseppe ma quello lì ma che cavolo di frutta te ora ve lo spiego subito giusto papà questo è un frutto esotico si chiama melano o chi uano o addirittura melone cornuto melone cornutaccio perché perché nella buccia contiene a queste punte che sembrano delle spine lo vedete ragazzi è un frutto esotico poco diffuso in italia dalla potente attività antiossidante ragazzi il kiwan è ricco di valori nutrizionali quindi in poche parole che valori nutrizionali a papa allora è ricco di acqua molta acqua è un frutto idratante ragazzi magnesio vitamina c calcio potassio ferro molto bello anche da vedere lo vedete ragazzi molto bello anche da vedere affascinante è ricco di antiossidante come vi ho detto prima ha proprio tanti infiammatori è idratante ragazzi è molto idratante che come perché come vi ho detto prima contiene molta acqua ed è rivitalizzante ragazzi questo è un frutto che viene coltivato in africa e in nuova zelanda è in minima parte anche in italia sardegna sicilia e calabria ragazzi come si mangia il problema mi hanno mandato i messaggi ma come si mangia questo qui si spacca a metà ok prendete un cucchiaino fate così questa è tutta polpa ragazzi tirate su e mangiare è buonissimo rega contiene tanta acqua è un frutto idratante ragazzi molto buono antinfiammatorio spero di essere stato esaustivo anche con sofia è vero proprio ciao a ciao a tutti ciao ciao